Ciao Tatticomani, buongiorno e buonasera dal vostro Tattico di PES, Tattico di Movediamo, Tattico iFootball insomma, non lo so Oggi parliamo finalmente dell'attacco con seconda punta e prima punta, quindi due attaccanti, due punte, seconda punta e prima punta Non le due punte, non le due seconde punte se c'è qualcuno che le usa, ma ci focalizziamo su questo Qualche tempo fa avevo fatto un video che si chiamava il bello dell'attacco a due punte, dove genericamente parlavo delle due punte Diciamo che questo video è un po' una prosecuzione, un approfondimento, un approfondimento relativo a tutta una serie di test che ho fatto negli ultimi tempi E' infatti un video che ho annunciato vari giorni fa, se non settimane fa, però ho rimandato perché mi mancava sempre qualcosina Adesso mi sono fatto convinto di una serie di cose e quindi ve ne vado a parlare Allora, una premessa, molti utilizzano i due attaccanti, anche se spesso l'ossessione quasi è di averle tutte prime punte Io non mi occupo di quello, in questo caso non solo, e anche i discorsi che andrò a fare oggi forse sono anche poco adatti a chi gioca con il 4-3-1-2 O il 3-4-1-2, insomma col trequartista, perché? Perché? Non perché necessariamente seconda punta e trequartista non debbano poter coesistere in uno stesso modulo Però è anche vero che un pochino si possono pestare i piedi, sono due ruoli abbastanza vicini, no? Anche se uno è centrocampista e uno è un attaccante, quindi sicuramente divergono molto in fase difensiva Il trequartista torna a difendere come un centrocampista qualsiasi, mentre la seconda punta rimane in attacco come un attaccante qualsiasi Quindi da questo punto di vista divergono molto, però poi viceversa in fase offensiva ecco non sono così distanti Anzi se abbiamo per esempio un trequartista giocatore chiave, una seconda punta regista creativo Possiamo tranquillamente ritrovarceli a posizioni invertite, cioè la seconda punta che viene in conto e il trequartista che scatta in avanti Quindi diventa tutto molto più flessibile, quindi i discorsi che vado a fare oggi sono in particolare rivolti ai moduli che non hanno il trequartista Ma hanno i due attaccanti, quindi per esempio il 4-4-2 oppure anche il 3-5-2 per fare un esempio Ma ce ne sono anche altri, il 5-3-2, ce ne sono diversi Ma partiamo subito, vi parlerò delle varie combinazioni di vari stili di gioco Come si devono intersecare e anche come posizionarli perché cambia un pochettino da un tipo all'altro Allora innanzitutto vediamo quali stili di gioco possono avere le seconde punte e quali stili di gioco possono avere le prime punte Allora le prime punte ce la capiamo facilmente sono opportunista, rapace d'aria, fulcro di gioco e senza palla Le prime punte possono avere soltanto questi 4 stili di gioco Le seconde punte invece possono essere giocatore chiave, opportunista, l'opportunista può essere anche seconda punta Classico numero 10 e senza palla oltre che regista creativo Quindi abbiamo 5 stili di gioco per quanto riguarda le seconde punte e soltanto 4 per quanto riguarda le prime punte Veniamo subito a parlare della prima combinazione che è quella che mi ha divertito di più E la prima combinazione è questa Seconda punta classico 10, in questo caso ho messo Maradona Prima punta opportunista Allora intanto una serie di cose La scelta, aggiungo qualcosina dal punto di vista tecnico La prima punta deve essere una prima punta un opportunista puro Sapete che io distingo gli stili di gioco in puro, in puro e speciale diciamo così E' una classificazione che ho fatto in altri video quindi andatela a cercare se vi interessa In ogni caso che cosa intendo? Che deve essere un giocatore proprio come Owen Che abbia oltre che il tiro dribbling e velocità Soprattutto la velocità perché deve essere, dobbiamo farlo scattare Il tipo di gioco che andremo a fare con questa coppia è sicuramente quello di filtranti Filtranti in raso terra il più possibile perché comunque abbiamo un attaccante piccolo e scattante E dietro abbiamo il rifinitore per eccellenza, il rifinitore migliore del gioco Che può servire degli assist micidiali anche di prima Anche a lunga distanza, anche se marcato Insomma è classico 10 il rifinitore per eccellenza Quindi è una coppia adattissima specie per il contropiede Per chi fa contropiede e soprattutto per chi fa difesa e contropiede Più che pressing e contropiede Quindi noi recuperiamo la palla Diamo la palla a Maradona in questo caso Cerchiamo di metterlo in posizione Dopodiché bam! Filtrante per Owen in questo caso perché lui sarà già scattato Oltre alla linea difensiva e per i difensori avversari sarà spesso impossibile Andarlo a prendere Seconda possibilità da utilizzare anche questa sempre in verticale Come avete visto prima li ho messi in verticale Non sulla stessa linea Il classico 10 e l'opportunista Ecco un'altra cosa, un'altra combinazione Praticamente opposta E quella in cui abbiamo il regista davanti E lo scattista dietro praticamente E quindi abbiamo il fulcro di gioco davanti E dietro una seconda punta giocatore chiave Giocatori molto offensivi Proprio registrati come seconda punta Come un Cruyff sono veramente perfetti Quindi con questo tipo di coppia Noi possiamo fare un gioco leggermente più indiretto Quindi mentre la prima combinazione è veramente diretta E se l'attacco non va a segno è molto facile perdere palla E dover difendersi di nuovo Ma è previsto diciamo così Qui intanto abbiamo la soluzione anche del lancio lungo Possiamo anche fare il lancio lungo direttamente dalla difesa O dal portiere anche dal rilancio E cercare la prima punta La prima punta che a seconda del movimento del giocatore chiave Che sta dietro Può decidere di spizzargliela addosso Addirittura di fare un filtrante verso l'indietro Sapete che il fulcro di gioco gioca a spalle alla porta Quindi se nel momento del lancio lungo Per la prima punta Fulcro di gioco Poi la seconda punta scatta alle spalle Noi possiamo addirittura fare la spizzata all'indietro Ve lo sto bombimando E praticamente potremo trovarci la seconda punta Molto spesso davanti alla porta E' una combinazione molto interessante Perché il fulcro viene sempre incontro Spesso non riescono a marcarlo i difensori Perché fa sempre dei movimenti a smarcarsi Se per caso lo seguono a uomo Apriti cielo Il giocatore chiave ci va a nozze In generale ogni volta che c'è un'unica punta Il giocatore chiave Che sia trequartista o cc O seconda punta Fa sempre la sua figura Perché usufruisce del fatto che ci sono più spazi Il giocatore chiave è un giocatore che si butta negli spazi Quindi questa è una combo molto molto interessante Ripeto da utilizzare anche questa In verticale Comunque leggermente sfalsati Ecco non è che cambia moltissimo Se noi andiamo a fare così Per esempio Lo potete fare tranquillamente E funziona comunque Però non li mettete Diciamo uno accanto all'altro Perché funziona meno Il fulcro di gioco Bisogna stare proprio al centro dell'azione E poter ricevere palla da un esterno Dall'altro E in tutte le occasioni Vediamo la terza coppia Anche questa molto divertente Secondo me Diciamo che è una via di mezzo Tra le due Perché la prima Classico 10 opportunista Era di puro Contropiede E più che altro di pura verticalità Solo in avanti La seconda era un po' più indiretta Quindi si va avanti Per poi andare indietro Per poi andare in avanti Nuovamente E poi abbiamo questa Questa via di mezzo Che consiste nell'avere Una prima punta Rapace d'aria E una seconda punta Opportunista Perché vi ho detto prima Che l'opportunista Può essere anche seconda punta Anche se Converrebbe in questi casi Avere una Un opportunista Come seconda punta Diverso da quello Che abbiamo usato Per fare la prima punta Con il classico 10 Ve li faccio anche vedere Servirebbe un opportunista Impuro Vi rimando sempre A quel famoso video Vi faccio vedere Per esempio Le differenze Tra Owen E la casette Che ho scelto adesso Diciamo che La seconda punta Che ci serve In questo schema Qui Deve essere un po' più completa Quindi volendo Meno veloce Però che abbia Un po' più forza Un po' più passaggio Un po' più dribbling Volendo anche un minimo Di difesa Quindi un esagono Abbastanza regolare Come vedete Quello di Quello di la casette Owen Un giocatore Soltanto veloce Messo qui Potrebbe soffrire Perché la seconda punta Opportunista Non è detto Che possa sempre Correre al massimo Della sua velocità Perché parte Qualche metro Più indietro A differenza Di quando Lo mettiamo Prima punta Quindi questa È sicuramente Una cosa Da tenere in considerazione E molto importante Anche il dribbling Perché Si trovi Un po' Nevralgico Quindi È importante Che riesca A evitare L'uomo E questa è una coppia Che funziona Funziona molto bene Per il contropiede Ma anche per il possesso Non è Non è malvagia Ed è forse la coppia Che a livello di posizionamento Ci lascia più libertà Nel senso che possiamo Metterli tranquillamente In verticale Come adesso Possiamo metterli Quindi se vogliamo Un po' In diagonale Funziona molto bene Così come Questi li possiamo Mettere anche Appaiati Diciamo così Quindi questa Secondo me È la più Versatile Dal punto di vista Del posizionamento E vi permette Di fare Più prove E vedere Come vi trovate meglio Abbiamo poi La coppia Di falsi Attaccanti Chiamiamole così Di regista creativo Seconda punta E senza palla Prima punta Questa è una coppia Che io definisco Non autosufficiente Perché Perché entrambi I giocatori Non sono dei veri E propri bomber Quindi può Non essere facilissimo Segnare con questi giocatori Se sono soltanto loro Ad occuparsi Appunto A prendersi L'onere Del gol Ma invece Funziona molto bene Per chi ama Avere uno O più centrocampisti Che si inseriscono Quindi degli attaccanti Che creino confusione Creino scompiglio Creino spazi Ecco Per l'inserimento Dei centrocampisti E appunto Dei centrocampisti Che si inseriscono Per questo Mi sento di dire Non che non si adatta Al contropiede Ma Non è adatto Soltanto alla verticalità Quindi se siete Giocatori che Difendono E poi vanno Subito Avanti Senza Tra virgolette Pazienza Non è La situazione Che fa Che fa Al caso vostro Perché potreste Trovarvi chiusi Invece Se avete Un po' Un minimo Di pazienza In più Non per forza Bisogna fare Possesso palla Riterato O addirittura Tiki taka No Semplicemente Serve un po' Di pazienza In più E serve Magari Un giocatore Chiave Anche degli Onnipresenti A centrocampo Che si inseriscono E sfruttino Gli spazi Con la seconda punta Possiamo appunto Utilizzarlo Per Con regista creativo Per dribblare Sicuramente Anche per rientrare E tirare a giro Quindi È sempre meglio Magari avere un destro Averli a piedi invertiti Mentre senza palla È davvero Imprevedibile Con i movimenti E lui Può essere anche Un finalizzatore Da dentro L'area Il regista creativo Più raramente Lo trova dentro L'area E può Segnare Può segnare Da fuori Però Entrambi Sono degli ottimi Specchietti Per le allodole Quindi considerate Anche questa Questa coppia Però mi sento Di dare Un'indicazione Cioè di non Utilizzarlo Almeno io Non Mi ci sono trovato Proprio Non mi sembra Che sia il caso In verticale Loro non funzionano Molto bene In verticale Proprio per quello Che vi dicevo prima Nel senso che Badate per esempio All'esempio Ripetizione Che vi ho fatto All'inizio Classico 10 E Opportunista Funzionano bene Perché Classico 10 E ottimo Per fare i lanci lunghi L'opportunista E ottimo Per ricevere i lanci lunghi Belli veloci Non c'è problema Mentre Il regista creativo Non è altrettanto bravo Rispetto a Classico 10 Assolutamente Nel fare Passaggi Un po' più difficili Così come Senza palla Non va subito In verticale Quindi metterli così In verticale Può farvi trovare Un po' Imbottigliati Può farvi trovare Un po' In un imbuto Quindi occhio a questa cosa Ma comunque Vi consiglio di provarla Perché può essere Molto divertente E difficile da leggere Per gli avversari Bene Bene Anche questo video è terminato Ho scelto volutamente Di farlo uscire Oggi Serata di Ferragosto Anche così Per vedere Chi sono i fedelissimi Che nonostante Insomma Stia Volgendo al termine PES 2021 E comunque ci sono le vacanze Di mezzo Insomma Fatemi sapere nei commenti Se ci siete Effettivamente A seguire A seguire questi video Così giusto Per individuarvi Comunque A parte gli scherzi Ci vediamo sempre Sempre nelle live E mi raccomando Che il 18 E quindi tra tre giorni Dovrebbe uscire Il video speciale Perché il 18 agosto È esattamente Il compleanno del canale Il canale l'ho aperto 18 agosto 2020 E quindi Insomma Farò uscire uno speciale Di cui non vi anticipo Nulla Ciao tatticomani Buongiorno O buonasera Dal vostro Tattico di PES Ciao